Buongiorno, sono Paolo Attivissimo, giornalista informatico, cacciatore di bufale e appassionato di auto elettriche. Accosto un attimo per dirvi una cosa importante. Sarò relatore alla Tesla Club Italy Revolution 2018, il 9 di giugno, che si terrà al Museo Nazionale dell'Auto di Torino. Parleremo insieme di un personaggio molto particolare, parleremo delle promesse e dei risultati di un visionario, Elon Musk. Vorrei farvi una chiacchierata con una breve biografia critica di un personaggio che per molti è il simbolo della rivoluzione elettrica. Vorrei parlare con voi e confrontarvi con voi su cose come le strategie, i successi, gli insuccessi, le difficoltà che si possono incontrare quando si è un imprenditore anomalo. Vorrei schermare le tifoserie da tutte e due le parti, come anche le critiche, a volte ingiustificate nei suoi confronti, per conoscermi gli fatti, per poter lasciare da parte i miti e mettere insieme i dati per capire meglio che cosa ci possiamo realmente attendere da questa rivoluzione del prossimo futuro della mobilità sostenibile. Quindi se vi interessa l'argomento mi trovate al Tesla Club Italy Revolution 2018, 9 giugno, Museo Nazionale dell'Auto. È importante iscriversi, l'indirizzo per iscriversi è teslarevolution.net. Ci vediamo!